Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Nel video precedente dovevate vedere chi era la bambina. Ci sono due nuove arrivati. Ciao! Ciao! Iniziamo la storia! Bene versus male. Questa è la nostra nuova bambina. Che carina! Che fortunate che siete! Guardate, è arrivata una nuova lettera dalla principessa. Ecco, ora la leggo. Siete invitati al ballo della principessa per scoprire chi sposerà. Speriamo che sia uno bello, gentile e intelligente. Vediamo chi ci sarà il ballo. Sono emozionata! Quando arrivano alla festa... Chissà come sarà la regina. È una principessa o una regina? È una principessa o una futura regina. Al momento del ballo, chissà cosa accadrà Buongiorno, io sono la regina, cioè la futura regina Adesso sono ancora principessa Chi mi sposerà? Spero qualcuno di bello, intelligente e gentile Durante questo ballo io sceglierò chi sposare Il matrimonio sarà fra due giorni Oh grazie, grazie, ma non c'era bisogno Mi concede questo ballo? Oh certo No, l'ho chiesto prima io Come hai osato prendere il mio posto? Maledizione Buongiorno ragazze, come vi sentite nel castello? Bene, dai, sì, è molto accogliente, grazie, ciao Maledizione Vuoi ballare con me? Continua Grazie di aver visto questo video Iscrivetevi al canale, mettete un bel pollice in su E tornate nel prossimo video Ciao Ciao Ciao